E bello a tutti ragazzi e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video Allora, fermi raga, oggi un video speciale perché quest'oggi non sarò da sola ma sarò in compagnia di una nerotola bellissima Mi viene già da ridere, ok? Mi viene già da ridere Ma adesso tutti quanti insieme diamo subito il benvenuto al nostro ospite speciale La signorina Giorgia Che cazzo fai? Che cazzo fai? Raga, fermi, c'è già un problema, c'è un problema Allora Non doveva andare così Vieni qui con la sedia Che bel buco No, no, fermi Perché c'è il buco bagnato? Questo è il mio seggiorino Sì ragazzi perché vi spiego un attimo Siccome lei, guardate, vi faccio vedere, siediti Praticamente se si mette vicino a me è una nana Perché lei è alta un metro? È 40 centimetri È un succo di frutta Quindi guardate, si è presa questa ciambella E ho detto, prenditi la ciambella così sei più alta Guardate, oh Incredibile Sì ma non dovevi dire questa cosa Cioè deve essere segreto Non me ne frega niente Sto lacrimando Vieni qua, vieni qua, vieni qua Bellissima entry, posso dirlo? Mettiamo il microfono centrale così Vieni qua a tutti con delle bellissime mollettine Raga vi giuro Prima di iniziare a fare questo video Il delirio No, spiego io Perché in pratica io Avevo i capelli tutti sparati stamattina E questa vuole fare il video con me E vuole rompere le palle Ho capito Allora cosa ho fatto? Ho trovato la soluzione con le mollettine Solo che sono molto antisesso Allora spieghiamo un attimino cosa faremo oggi, ok? Oggi faremo una prova a non ridere Con una challenge in mezzo L'avete visto sicuramente dal titolo Dove i nostri fan ci hanno inviato Mi hanno inviato in questo caso Di video divertenti di TikTok Che io e Giorgia andremo a vedere insieme E ogni volta che Giorgia riderà Le dovrò dare uno schiaffo Sì ma io già la riderei adesso Perché sarei video divertenti Cioè io sono una che ride subito Quindi questo è quello che faremo Vedremo dei video divertenti La prima che ride L'altra dallo schiaffo a quella cariso Semplicemente, ok? Bene ragazzi Prima di iniziare con il video Vi invito da subito Da subito A lasciare un bel pollicione in su E fateci sapere qui sotto nei commenti Se vorreste vedere altri video di questo genere Insieme a questa nanerotra Dite di no Cioè non mi devo preparare pure per i tuoi Cioè dite di no Ma no devono dire di sì Però cosa importante Se ancora non l'avete fatto Dovete iscrivervi al canale di questa lezza E attivare la campanellina Perché così almeno non vi perdete il video Ma a proposito di iscrizioni Diciamo anche questa cosa Che la signorina Giorgina Di recente ha aperto un canale YouTube Dove anche lei pubblica video di Fortnite Challenge, sfide, robe strane Dove probabilmente potrebbe essere Che magari nel suo canale Prima o poi Quando lei si deciderà Potrei sbucare anch'io, vero? Sì e ti farò partire le pene dell'inferno Dato che questi sono i tuoi video di merda Dove mi devi tirare gli schiaffi Dissata Non perdiamoci in chiacchiare Che questa è introdurata fin troppo Con questa signorina Passiamo subito alla reaction dei TikTok Quindi si parte Ok ragazzi Siamo organizzati con le cuffiette Come vedete Quindi una testa Staremo vicine Purtroppo ci tocca sta vicino Vabbè Sì veramente C'è una puzza di ascelle Eh sì Qua c'è una puzza di culo Lasciam perdere Vate a fare la doccia per favore Dai Dammi una caccola Questa ve la lanciamo ragazzi E in omaggio Ok In omaggio Bello Iniziamo subito con le reaction Posso solo dire una cosa Perché sono sfocata Ok ora mi ha messo a fuoco Perché ho levato la caccola Ok Ah con la caccola Ridammela Stai zitta Iniziamo Iniziamo con la reaction Posso dire una cosa Mi fa già ridere Ridere la cosa Ridere Le fa rigere Ridere Mi fa già ridere Ridere Ma quindi da adesso Non posso più Non devi ridere Se ridi schiaffo in faccia Non mi interessa Ok sei pronta Vai Aspetta La ridarella Non è neanche il tempo di ridere Vai No Non si ride No Non sto ridendo però No è la parte iniziale Che mi ho dato Guardate i miei occhi Guardate i miei occhi Non so se si vede Guardate i miei occhi Posso guardarmi meglio Ragazzi ho le lacrime Perché noi ridiamo sempre Per questi video così Ci escono sempre Costantemente su TikTok Però Io non ho le lacrime Ce l'abbiamo fatta No non hai le lacrime Sei solo piangendo Però Non abbiamo riso Stippa Andiamo Andiamo al prossimo Quando mangi 25 Banini al McDonald's Ma poi Per rimanere in linea Ordini la Coca Zero No No Non ho riso Hai riso No non ho riso Non ho riso Non ho riso Non ho riso No Ok passiamo al prossimo Già che c'è Putin Già che c'è Putin Ma non farà ridere Sarà una cazzata No No Ancora Ancora stiamo resistendo Hai dei video pessimi Comunque Va bene Non fanno ridere Va bene Vediamo questo se resisti Vediamo se resisti a questo Ok vediamo Mamma è una troglia Puttana Patata Tu i nomi io li saluto Una figlia di puttana C'è tua nonna Eeeh Che pari Putin Eeeh Va bene Un bacio a tutti quanti Da Chiara Ma è un montaggio Ma è un montaggio Allora Hai riso tu Io non ho riso Hai riso ancora Hai riso Non è vero 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 Clicca A parte gli scherzi Di sto video Cioè fare vedere Sia la parte L'originale Perché Chiara Le dice di elencare i nomi Che li saluta a tutti E lei poi fa Vabbè Un saluto a tutti Perché non ha voglia E questo però è bellissimo Vieni faccia Momento della Sì ma dove In quale gancia Eeeh Improvviso Cioè così Cioè deve essere Sì ma non fai male gli occhiali No mi pare Allora io conto Fino a 5 E poi te lo tiro Allora Aspetta Leva il microfono Così vedono meglio Aspetta Aspetta Allora 1 2 3 Tua madre Ok 1 No tu hai riso No Tu hai riso Hai riso Io ho la pasta No siamo 1 a 1 Vieni qua Conterò fino a 5 Ok al 5 io vado Lo fai come fatto io Che lo fai prima Tanto No Ma veramente Allora 1 2 3 4 5 No no io lo diamo Ma T'ho preso l'orecchio Va bene 1 a 1 1 a 1 Comunque il montaggio È troppo bello No Mariella 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 sei la nostra idola Ti prego notaci Per favore No no Un'altra volta Mariella Un'altra volta Mariella Ragazzi Oh hai riso adesso No Sì hai fatto Ma perché no Hai fatto una risata pre video Ma non c'era il video Che non mi sono Hai fatto una risata pre video No non è vera ragazzi Hai visto la faccia Hai fatto Mariella Ma si ride quando il video parte Quindi no non vale Mi dispiace Hai citato Hai citato Ok Ok No vai Andiamo Andiamo Sei pronta Io non bestemmia mai C'è scritto No io non bestemmia mai No io non bestemmia mai No io non bestemmia mai Stai ridendo Stai ridendo Stai ridendo Stai ridendo Questa vale come risata eh No perché Stavi ridendo No Stavo La gola Mi grattava Stavi soffocando Mi grattava la gola Va bene Comunque non ha fatto ridere Perché questo video Lo conosciamo tipo troppissimo Esatto L'abbiamo visto mille volte Vi giuro Stai spiegando con calma A tua madre Che quel pacchetto di sigarette Nella borsa Non sono tuoi Ma del cugino di una tua amica Che si trova in Germania E c'è nuovamente Mariella Vai Paura Ma cazzo eh Emine Perché Emine Ma ha paura di dissare Mariella Cioè che cazzo è Che cazzo dici Povera Giorgina Che deve subire Il nostro schiaffettino Il nostro schiaffettino Ma che va Aia ma hai anche strappato L'orecchio di oporta Allora Allora Il prossimo Se riderò Non devi darmelo così forte Minchia Certo due Io sono proprietaria del canale Quindi io devo essere più cattiva Mi cacciano la guancia rossa Dai vai avanti Esagerata Nice ASMR bro Io ho paura Questi sono full relax Che cazzo paura hai No perché questi qua Mi sa che sono quelli Un po' più cattivi Cioè Perché escono sempre Nelle live di tiktok Cioè La messa è cominciata Ma Sembra che Sembra che Sto facendo una cosa strana Alla punta del microfono Perché già questo microfono Ha una forma un po' ambigo Ok Quindi sembrava Sto facendo un po' Un servizietto particolare Non scendiamo In questi dettagli Ok Però non ho riso Questo è quello del cespuglio Che in realtà è umano Quindi il vezzo Si cagadosso palese Mi sa Guarda Fidati Porca puttana Ma l'ha distrutto L'ha distrutto raga C'è uno senza Veniamo avanti Vai Ho paura No Andiamo con Andiamo con Dovrebbe se mi sa L'ultimo video in realtà Io riso solo una volta Ma che palle Voglio ridere di più Sarà questo il video No non sarà mai questo Sarà lui Sarà lui Ok vediamo un po' cos'è Minecraft Preferisco Minecraft Oresti essere un pesce No non mi piacciono i pesci Hai mai guardato Mi ero Damiani Che cazzo era Che cazzo era No che cazzo era Che cos'era quella cosa Da fine del suo schieneto di merda Non è riso Non è riso Non è riso Guarda Che falsa Falsa Pronta Dai mi ha riso poco Carezzine Carezzine Questo è quello per quello di prima Questa era una slurfa Di quelle potenti raga Non si sente più la faccia Dai ti do anche un bacino No sei tanto cattiva Mi hai tirato una slurfa prima Ho capito Ma mi hai spaccato la testa qua Eh che aveva prima Quindi siamo due a due Abbiamo finito pari A questo punto I ragazzi nei commenti Ci dicono secondo loro Chi ha vinto Però dobbiamo dare Un video che deve essere il vincitore Secondo me io so qual è Secondo me potrebbe essere questo Aspetta Questo secondo me vero Questo Mariella è Mariella it's life Rilasciate per l'ultima volta Ok Vai Se si ride non conta Quindi tranquilla Lasciati andare Senza problemi Tua mamma è una troglia Puttana Patata Tu i dinomi Io li saluto Una figlia di puttana Cioè tua nonna Eeeh Che pari Puccino Eeeh Va bene Un bacio a tutti quanti da Chiara Hai riso Ma che te hai riso Ah Ah no Allora hai riso Hai riso Ma che te hai riso Va bene vai Ma porca puttana Ma hai tirato una slurfa Vabbè 3 a 3 3 a 3 Comunque questo secondo me è il video vincitore Sei d'accordo Sì secondo me Bene possiamo levare le cuffie Leviamo le cuffie Non mi devi strappare l'oreggio Leviamo le cuffie ragazzi Sono andati alla fine del video Beh allora comunque siamo state molto brave Sì Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video Siamo state comunque molto brave Sì Alla fine beh se vogliamo contare l'ultimo Siamo effettivamente 3 a 3 Giusto Perché quello di Mariella è stato un extra Che ci ha fatto effettivamente ridere Quindi Tanta roba Tanta roba Se volete vedere un'altra challenge Tra me e Giorgio Sempre di questo genere O magari altri tipi Mi raccomando fate Allora Non è che devi spaccarti Fai sempre casino Non è che devi spaccarti Non è che mi ha detto la mano Non è che mi ha detto la mano Non è che mi ha detto la mano Ragazzi scusate Ci siamo veramente Siamo un danno Io e lei insieme siamo un Bene ragazzi Comunque finiamo subito questo video Se volete vedere altri video di questo genere Mi raccomando fateci sapere qui sotto nei commenti E lasciate tanti pollicioni in su E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi Al cazzo di canale Capito? Quindi Io e Giorgina vi lasciamo Ci becchiamo al prossimo video Bella a tutti ragazzi Dai facciamo una bella cosa con la Marina Uh Wooo